Ciao a tutti e bentrovati Allora Dovamo raggiungere la prossima città Con il nostro camperozzo Ma diciamo che Il capitolo precedente non mi dispiace Il boss faceva un po' A verbrezzo fosse esagerato Però Non mi ispirava molta fiducia Va bene, la dinamica La ritrovo, quindi qua Sicuramente ci sarà una parte molto ampia Di dialogo Va alla prossima città Vediamo le richieste Bisogna di Shibuya Bisogna di Shibuya Ovviamente Io non ne ho fatta manco una Qua ci sono quelle nuove Ma come vi ho detto Probabilmente poi le farò Con gli altri personaggi Vuole solo dare un'occhiata Ai punti legame E E Vediamo Lui è di livello Ho questo Queste sono le persone Ok Statistica 34 Vedete Gli altri sono Di 23esimo Avanzeranno circa la metà Rispetto a Ai personaggi che uso Forse due terzi Facendo un calcolo Molto rapido Però Diciamo che attualmente Non è Di mio interesse Perché magari a voi interesserebbe pure Vedere le missioni secondari Ma Sinceramente non lo vedo come obiettivo prioritario Ok Qua non c'è niente Andiamo a comprare gli oggetti Come al solito Riempiamoci di cose Che Adesso Non posso dire Che non Che sono sicuramente più utili Rispetto a prima Visto che La difficoltà Dei boss Sicuramente è aumentata Cioè Non solo dei boss In realtà Ma la difficoltà Aumenta nel momento stesso In cui Non ti fa riposare Quindi non ti fa riprendere E devi continuare Con quello che hai Soprattutto con gli SP A meno che tu Non consumi questi Più di risolvataggio Costa un bel po' Ma Penso che sia Il prodotto più utile Che hanno Nello shop Le ricette Per il momento A base di lingua Di manzo Cipolla Vabbè Non dico che faccia Schifo Però A me piace La cucina giapponese Ma dipende sempre Da quello che si mangia Andiamo? Andiamo Andiamo Okinawa Siete pronti? Forza Siedetevi Quello Deve guidare Per 21 ore Vuoi che guidi io? Per un po' Non preoccuparti Per me Dormi pure C'è ancora Molta strada Sei sicuro? Sicuro Va tutto bene Non c'è bisogno Che dei ragazzini Stiano così In pensiero Per un adulto Per me Non è niente di che Beh A dirla tutta Sei un ottimo guidatore Quando al volante Ci sono io Si sentono Molti più scossoni Mi sembrerà strano Ma un tempo Andavo di pattuglia Con la volante Ormai guidare È naturale Per me Guidare L'auto E la polizia? Già Tutti i senti giorni All'epoca presidiavo Una cabina Di polizia Quanto è dura Lavorare Polizia Intendo Beh Non è certo Semplice Ah già Tu stai studiando Per diventare Un pezzo grosso Della polizia Vero Onijima Sì Ma Ho appena Cominciato Beh Non me la sentirei Di consigliarlo Questo lavoro È un vero inferno I orari Sono tremendi Si trasferiscono Di qua Di là Ti trasferiscono Di qua Di là E se qualcosa Va storto Sulla scena Il chimio Se la prendono Sempre con te Sarà Ma è comunque Quel che desidero Con tutta me stessa Non importa Quanto può essere dura Ti sostreremo noi Eh Così vuoi dire Scusami Beh Se sei così determinata Allora Faccio che devi Ma come tuo collega Più anziano Senti di dover Te lo dire Più lavorerai I soldi E puoi finirei Per trascorrere I tuoi cari Le disgrazie Non guardano In faccia nessuna E i criminali Non importa Di tuoi orari E sappi Che starei Ben poco A casa tua Prenditi del tempo E pensa A quel che ti ho detto Prima di decidere Se le forze dell'ordine Fanno per te Beh Ne sono già piuttosto consapevole E a proposito Tu non hai una famiglia Che ti aspetta a casa? Ottima domanda Oh insomma Non puoi Farti gli affari tuoi Diciamo soltanto Che prima di pensare Agli altri Tocca pensare A se stessi Sì Immagino sia vero E ora che c'è? Mi hai fatto venire in mente Mio padre Anche lui era Un agente di polizia Sfortunatamente Perso la vita in servizio Capisco Prendeva il suo lavoro Molto più servente Di quanto sembri Fare tu Ma se guardiamo Alla sostanza Devo dire Che siete piuttosto simili Ehi Non dovresti Discreditare tuo padre Paragolandolo a me Dunque Nijima Quando eri piccolo Immagino che tuo padre Non passasse molto tempo a casa Giusto? Questo è come ti faceva E questo è come ti faceva sentire? Beh Col senno di poi Ne sono fiero Mio padre agiva Secondo sempre i suoi ideali E andava fino in fondo Mi ha insegnato Che il suo dovere Era quello di proteggere gli altri Forse per via Della sua influenzazione di me Ma sono ancora convinta Che diventare un agente Di polizia Sia una scelta Di vita ammirevole Se lo seduto fosse sempre vero La nostra capacità Di aiutare gli altri È comunque limitata Più il nostro obiettivo È scaltro È pericoloso Più è difficile fare giustizia Siamo stancurati Da superiore Dalla burocrazia Dalle leggi Clause Di ogni tipo Tutto c'è che la polizia Fa È seguire gli ordini Anche quando questi comportano In giustizia O assenza di un qualsiasi Senso logico In sostanza I polizetti che vedo Circolare per le strade Non sono altro Che un mucchio di cagnoni Senza spina dorsale Comunque Alcuni fanno del bene Però Sì Facciamo così Certamente Come il papà di Nijima Comunque Comunque sia Non è questo il punto Quel che ti ho chiesto Nijima E quando eri piccola Come ti faceva sentire L'assenza di tuo padre Quando ero ancora una bambina Capivo che faceva parte Del suo lavoro Ma ancora oggi Ricordo bene Quanto mi mancasse Se non l'altro Avevo mia sorella Lei c'era sempre per me Capisco Scusa per tutte queste domande Fareste meglio Ad andare a dormire Se dovessimo ritrovarci nei guai Mentre avete astuti sonno Sarei io Quello della merda Fino al collo Va bene Siamo a 13 agosto 14 Siamo a Quasi metà mese Io ho dormito così tanto Che ora Che ora persino sonno Cioè Che ora persino dormire È una noia mortale Che si fa? Beh Per caso qualcuno ha fame Oddio Anche se immagino Che ormai siamo quasi a Kyoto Forza di oggi Facci ridere un po' Che c'è? Vuoi che mi esibisca? Non sono mica un comico Merda Non adesso Rispondo io per te Oh beh Perché no Fai pure Fai in fretta però Dille solo che sto guidando E che la richiamerò più tardi La chiamata La chiamata arriva da una certa cane E io sono Rarma Sautome È mezzogiorno passato Dove sei? Non dimmi che ti sei dimenticato Che giorno è oggi Dovevo andare a fare visita Alla tomba della mamma Mi dispiace Chi parli? Dai il telefono per favore Spiacente Era a volante A volante? Sì beh Ha senso Che succede? Chi ha il telefono? Un'emergenza forse? Perché non accosti Nonnetto? Che succede? Ci sono due ragazze lì Che stronza Sei in giro a spassarti Eh? Ora sembra piuttosto incazzata Mi fai schifo Non scomodarti a tornare a casa Non sei neanche degna Di presentarti davanti Alla tomba di mamma Non conosco i dettagli Ma tutto ok? Si è fatta un'idea sbagliata Sì chiedo scusa Non fateci caso Adesso sarà la sorella Beh allora chi era? Ah Quindi la moglie è morta Accidenti scusate Il momento di dare gas Tenete i forti Ragazzi Wow Cioè wow Mi spiace Non pensavo Okinawa C'è scritto No Chioto c'è scritto Ah là c'era la traduzione Non l'avevo vista Quindi la moglie è morta Ok siamo nel perimetro urbano di Chioto Qui va bene Devo proprio andare Parcheggiatelo da qualche parte E fate un giro Tra i templi O quel che vi pare Ci sentiamo domani Aspetta domani? E dove? Ma che cavolo L'ho visto piuttosto agitato Dopo quella chiamata Forse aveva degli impegni importanti A Chioto Doveva recarsi a una tomba In base alle mie deduzioni Pare che oggi sia l'anniversario Della scomparsa Della moglie di Zenkichi Doveva recarsi alla sua tomba Ah La moglie di Zenkichi è morta Ecco perché suo figlio Voleva sapere dove si trovasse Zenkichi poteva Semplicemente dirci Come stavano le cose E poi non trovate Che gli stesse parlando In modo troppo scontrosi In un giorno come questo Intendo dire Era dirata A causa delle molteplici voci femminili Che l'hanno indotta A questa supposizione Si è in giro a spassartela Wow Quando si dice Farsi un'idea sbagliata Ma è terribile Dobbiamo chiarirci subito con lei Infatti Dovevo farci affari nostri Non possiamo Siamo in parte responsabili Di questa situazione Ho trovato un solo cimitero Nelle immediate vicinanze Lo troveremo lì Sì ma Va bene Sarò di parte Ma Secondo me Dovevo solo farsi affari loro E Fino ad adesso Ho anche altro Solo problemi Comunque Scusa ho fatto tardi Akane Attendo Non sono qui per sentire le tue scuse Cosa facciamo Abbiamo fatto Un bel pasticcia Lo sta facendo a pezzi È tutta colpa nostra Siamo noi A dover spiegare Come stanno le cose Scusate un attimo Possiamo Voi chi siete Sono quello Al telefono Poi perché È molto Diffidente Nei nostri confronti Lo sarei anch'io Ma Scusate di intromissione Ma dobbiamo dirvi una cosa Perché siete venuti qui Vi avevo detto Di aspettare fino a domani Beh è colpa nostra Se tua figlia È così turbata Akane Chan Giusto Stiamo lavorando a un caso Con tuo padre Avevamo i viaggi insieme Prima che si allontanasse Per venire a incontrarti Tuo padre si è affatto Di guidare E così è stato Questo ragazzo Rispondendo al telefono Proprio così Allora Quando ho parlato con te Ci stava portando a Kyoto Ci dispiace tanto Di averti fatto arrabbiare Capisco In ogni caso In questo caso Vi chiedo scusa Per il mio comportamento Ho corso troppo Con l'immaginazione Ho finito Per fare una scenata Mi spiace Wow è davvero ben educata Questa età È più matura di Ryuji E piantala Però su sei Non sembri sua figlia Neanche un po' Piantala tu Allora Akane Chan Tu e tuo padre Vi eravate Fatti una promessa Per oggi Giusto Ci dispiace Di averlo fatto Arrivare a ritardo È tutta colpa nostra Oh no Non vi preoccupate Già Spiace anche a me Akane Ti giuro Che non mi ero dimenticato Di oggi È solo che Questo caso Ci sta portando Di qua e di là Perché ridi Beh ecco E poi non mi avevi detto niente Non potevi semplicemente Spiegarmi tutto Prima di oggi Ci sono invertiti Ci sono invertiti i ruoli Sta facendo La rama Come può essere Tanto freddo Con suo padre Proprio oggi Sai che la polizia Non può parlare Di casi Ancora risolti Eccetera eccetera Giusto E' vero E' vero Lasciar trapelare Certe informazioni Potrebbe mandare L'aria Tutto il lavoro Svolto Delle forze Dell'Undio E dai Dagli tregua Ryujin Lo so Non avrei diritto A dire la mia In questo caso Considera tutto Quello che ho fatto Passare a mia madre Ma ora si sta Preparando Si sta prendendo Cura di te Giusto Allora non rompigli L'anima per questa storia Già Se io facessi così Con suo giro Gli ci vorrebbero Sei mesi Per riprendersi Voglio dire Non è che Non vogliamo Importi niente Però sono certe Che avrei le tue ragioni Per ciò che hai detto Ad ogni modo Il suo ritardo Era dovuto davvero Al lavoro Almeno per questo Ti prego di Non rimproverarlo Capisco Grazie Kamechan Siamo sinceramente Rammarichati Per aver causato Problemi In una data Cos'importante Possiamo rendere Omaggi anche noi Certamente Ragazzi Grazie Non worry Ma ricorda Che anche tu Ci devi un fuori Zenkici Acqua in bocca Gatto Non ho intenzione Di spiegare Tutto questa Da Kame Non preoccuparti Kame non può sentire Niente Forse andiamo A rendere omaggio Sì appunto Sta parlando Col gatto E quella Dice di Elta Avevo recitato Una preghiera Per i defunti Due anni Due anni Come vuole il tempo No È stato un assassino Cioè L'ha detto Ah no Vabbè Forse lui Non l'ha sentito È stato Beh Dovrei andare a casa Oh Perché noi andiamo insieme Posso ordinare Del cibo Da spuoto No grazie Non voglio avere Niente a che fare Con te Madonna Ehi Akane Non vuole saperne Non vuole saperne Voglio proprio evitarlo Non è una semplice fase Di brilio adolescenziale Però sa anche Essere così educata Mi chiedo come possa Essere successo E vi chiedo scusa Per tutto quanto Mi avete proprio salvato Prima Ora devo andare a casa Ci vediamo domani Vi contatto Ok Ok ma Sicuro di voler andare a casa Dopo quello che è successo Ah non preoccuparti Lei ha quell'età È normale Sai So che non passi spesso Da casa Ma sei sicuro Che sia tutto a posto Lì Sei sicuro Che Akane Mangi come si deve E tutto il resto Sì beh I genitori di mia moglie Vivono nella casa a fianco Lei si chiude Nella sua stanza E resta lì tutto il giorno Ecco tutto A quanto mi dicono Lei mangia sempre Nella sua stanza Roba preconfezionata Per lo più Addirittura Io sono sempre fuori Per lavoro Non so niente Delle sue abitudini alimentari È una ragazza In piena crescita Spero almeno Che mangi bene Oh Veramente È tutto basato Sul cibo Cioè È una roba incredibile Bah Beh Se non altro Ne invia del denaro Sì spero Noi gli manchi Il cibo in frigo Non so Così il genere Bah È già in terza media Immagino che ormai Abbia le idee Piuttosto chiare Chiare su cosa Vuole mangiare domani Cioè Sono preoccupato Per lei Vabbè Non dovremmo lasciarlo Vorrei aiutarlo Vabbè Sì ma Ripeto Ma una manica Di fattacci vostri No eh Già Dopo quello che Le abbiamo fatto passare Vorrei almeno Fare qualcosa di bello Per lei Ma Cos'ha fatto passare Cosa Suo padre Si è speso Si è speso Molto per noi Finora Che ne dite Se offriamo loro La cena È un'ottima idea Vorrei poterle parlare Di nuovo Possiamo anche Aiutare a cucinare Pare che dovremmo Che dovremmo restare Lì per la notte Se chiamiamoci Comprate tutto Nel cesto Di pipistrelle di pipistrelle Stasera Dai Dopo la lingua Di bue La corda di bue E occhi di gatto Akane Puoi passarmi le patate Senz'altro Ah non devi essere così formale Con noi Possiamo parlarci Più spontaneamente Spontaneamente Ok andate tutti Molto bene Akane Ti andrebbe di darmi Una mano a tagliare le carote Ok Bene Beh pare che vadano d'accordo Si sta aprendo un po' È davvero Davvero Non immaginavo Che potesse succedere Quando l'abbiamo incontrata È una brava ragazza Sì Baby Non posso più stare in disparte Voglio aiutare anch'io Ci trova Ci sono Troverà una ricetta Pluripremiata E La metterò su Un display No Tieni a freno I tuoi circuiti Sofia Il carry è sempre buono Allo stesso modo Quando lo fai in compagnia Davvero Bel coraggio che avete Non riesco a credere Che mi abbiate Di aver invociato la casa In questo modo A dire il vero Però non ricordo Quando è stata l'ultima volta Che in casa mia Si è respirato un'aria Così allegra Ehi allora Non si è costretto A rispondere Se non vuoi Ma Cos'è successa La mamma di Akane Omicidio stradale Un pirata della strada Sarà il nome Perché Anche Akane tendo Aveva la madre Cioè non aveva più la madre Allora parlava di questo Ha accennato anche Al colpevole giusto Alla fine l'hanno preso Non l'hanno mai indagato Qualsiasi sospetto ormai È fuori dalla mia portata Che intendi dire Nulla che ti riguardi Sì ma Veia puoi aiutarmi A dare degli ultimi ritocchi Avanti al lavoro Spero per voi Che ne sia valse la pena Ma perché devo andare io in cucina Ma adesso Guarda Ci manca solo la prova del cuoco Queste verdure di chioto Rendono il curry davvero incredibile Fammi provare Fammi provare Ovviamente questi manca È delizioso Devo parlare a suo giro Cioè poi sembra che Abbiano un amplesso a mangiare Cioè Io so anche Io sono Sono uno che mangio Si vedrà anche Però Se vuoi che ne sarebbe andato matto Un curry così buono Da far commuore Vorrei poterlo provare E come dovrebbe funzionare Non voglio Ne voglio un po' anch'io Ma è troppo caldo Non temere Morgana Teneremo un po' La mente del gruppo Pensa sempre a tutto Un po' di invidio MiauGana Scusa Come mi hai chiamato? MiauGana Con chi parlavi? Oh Parlavo tra me e me Ad ogni modo Com'è il nostro curry Akane-chan? Ti piace? È buono Akane? Sì è buonissimo Bene Mi fa piacere Sofia Qui conviene Tenere la bocca chiusa Oh Accidenti La melanzana Viola Dà al curry Un sapore fantastico Mi sento ispirato Vabbè Oh Hai un'idea Per un nuovo piatto Non vedo l'ora di provarlo Cavolo Mangiare questa roba Quintali È ora di fare il bis Abbandono mi speranza Futaba La prossima porzione è mia Va bene Fatela finita Ce n'è abbastanza per tutti È proprio una delizia Riuscirei a preparare Una cosa del genere Anche da sola? Certamente Concordo Impari molto in fretta Sarai una maestra del curry In men che non si dica Grazie Farò del mio meglio Ho un'idea Ti va di fare un bagno insieme Al caniciano Un bagno? Per noi ragazzi È il miglior modo Per conoscerci Posso insegnarti tutti I trucchi delle modelle Per avere una pelle Sempre luminosa Davvero Sarebbe fantastico Voglio impararli anch'io Posso unirmi a voi Che c'è una piscina? Infatti Già scusa Al cani e l'altro Sono andato a fare il bagno insieme Mi avete proprio salvato la pelle Ragazzi Questo posto è striminzito Lo so Ma per stanotte è tutto vostro Finita bene Sono contento Chi l'avrebbe mai detto Che i ladri fantasma Fosse un branco di teneroni Se qualcuno soffre È giusto fornire aiuto Quando è possibile Già Facciamo soltanto Quello che va fatto Aiutare i deboli Schiacciare i forti È per questo Che fanno i ladri fantasma Ed è così Che sarà sempre Per noi Non dimentichiamo E poi Non ce la faccio E poi Non dimentichiamo Mai chi offre Un pasto O un tetto Sopra la testa Mai Sopra tutto il pasto Ah davvero Ad ogni modo Ragazzi Volevo ringraziarvi come si deve Era da un pezzo Che non vedeva cane così felice Quindi vi preparo Un bel maiale al forno Allora Non è Riguarda Quello che dicevamo prima Scusa La giornata è stata Passata al volante Inizia a farsi sentire Cosa diceva Sakamoto Cosa diceva Sakamoto Lascia stare Ti chiedo scusa Devo proprio farmi una bella dormita Vi spiace fare un po' di compagnia Da cane nella sua stanza Ultimamente si è appassionato A una cosa online O almeno credo Ha a che fare con una specie di show Sui suoi idoli Io non ne so niente Come è ovvio Ma sono certo Che lei sarà felicissima Di spiegarvelo Dicevuto Ci pensiamo noi E senti tu Veia Abbiamo una misteria da compiere Va bene Una volta uscite Le ragazze dal bagno Siamo andate In una stanza di cane Ecco Santi nome Questa è la mia stanza Eh sì Ecco Questo è tutto Merchandise Dei ladri fantasma Non avevo idea Che facessero Tutta questa roba Beh Sai Molto famose Sono abbastanza sicura Che alcuni di questi Si trovino soltanto Su siti web Super di nicchia Alcuni Sono persino Fatti a mano È troppo vero Lo so È una cosa patetica No Non è questo Canacciante Ti piace I ladri fantasma Quindi Eh beh Ecco così Makoto Si sta Lanciando Ci sta lanciando Una certa Archiataccia Sono perfetti Siamo proprio identici Questi che vuoi Noi Siamo Sfegatati Dei ladri fantasma Sì sì Proprio così Lo adoro Io adoro I ladri fantasma Forza Ladri fantasma Invegliate Il cuore Dei malvagio E tutto il resto Eh beh Io Sono così Emanza Caglietto Proprio Una bomba Vale Mi piace I ladri fantasma Perché sembrano I unici A voler cambiare In meglio Questo mondo schifoso Non solo Rischiano la vita Combattendo per gli altri Riescono anche A ispirare le persone Incoraggiandole Da essere più forti Sono in otto O forse nove Ma le loro identità Sono ancora volte Il mistero Siamo noi Dai video Che la gente Ha postato in rete Sembrano proprio Fichissimi Continuo a chiedermi Chi possono essere Siamo noi Specialmente Quello che si vede Sempre al centro Chissà Forse è il leader È così misterioso È così affascinante Sono io Oh Eh sì Ti piacevo proprio I ladri fantasma Cavoli a cane È una ragazza fantastica Oh scusate Non volevo assillarvi Non c'è problema Anzi Vorrei sapere di più I ladri fantasma Grandioso Magari potrei farvi vedere Lo show Show Quello show È una show di streaming Che parla di tutto Ciò che ha a che fare Con i ladri fantasma Interessante Già Sembra fantastico Dettimi soltanto Un secondo È quasi ora Della diretta Ciao a tutti E bentornano È da un bel pezzo Che non ci si vede Cari miei Fantafanatici Fantafanatici Stasera Ho una gran voglia Di divertirmi Insieme a tutti I super fan Del ladri fantasma In giro per il mondo Ha parlato di uno show In streaming Ma non pensavo Che fossi la streamer Wow È come se la sua personalità Fosse diventata Completamente diversa Sarebbe questa roba online Che le piaceva tanto Credo che stia doppiando Quella action figure Ti sta imitando Ci sa fare È venuto il momento Di ringraziare I ladri fantasma Con tutto il nostro cuore Il suo canale Ha più di 50.000 iscritti Il mio li ha 50 Comunque È un account Di tutto il rispetto Deve farle guadagnare Una somma non indifferente Notevole Dunque ci sono Altri sostenitori Di ladri fantasma Al di ladri Il fan site È imbarazzante Ammetterlo Ma devo dire Che mi fa Molto piacere Cari fantafanatici Sono certi Che siete tutti Al corrente Dell'acclamato Ritorno Dell'altro fantasma Ad oggi In Giappone Si sono verificati Altri incidenti Che corrispondono Al loro Modus operandi Dobbiamo festeggiare A cognabla C'è aperto Il grande ritorno Dell'altro fantasma Si è davvero Carata nella parte Forse Oltanto di buon umore D'altronde Suo padre È tornato a casa Proprio oggi Credo tu Abbi ragione Mi ricorda me Da piccola Quando mio padre Faceva finalmente Ritorno a casa Davvero Anche tu Trasmettevi In streaming E come lo avresti chiamato Il canale della divina scuola Dei ladri fantasma Io l'avrei detto La divina scuola Di occuro Sicuro di volerlo scoprire No 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 Ti chiedo scusa Ecco così che funziona Un episodio In poche parole È stato fantastico Sei bravissima A gestire lo show I tuoi spettatori Sembrano davvero coinvolti Ok Grazie Lo faccio Dall'anno scorso Ai tempi Della prima apparizione Dei ladri fantasma E in un anno Ha fatto 50 Mi dà Gli iscritti Vabbè I ragazzi di oggi Sono incredibili Sì infatti Ah sì Nonnetta Però Devo ammettere I miei voti Ne risentono Forse per un po' Dovrei andarci piano Con lo streaming Soprattutto ora Che si stanno avvicinando Gli esami di missione Al liceo Voi chi ti dia una mano Con lo studio Makoto con la moto Dici davvero? Certamente Per voi è un problema Grazie Ho diventato un genio adesso Devo farlo ogni volta Che ha a che fare Con una scomposizione In fattori Wow Grazie Makoto Con la moto Siamo un insegnante Fantastica Mi fa piacere Estiti di aiuto Ok Passiamo alla prossima operazione Abbiamo fatto bene Lasciare che se ne occupassimo Akoto Noi non siamo stati Di alcun aiuto Beh In ogni caso Non mi pare che ci stessero Implorando i ginocchi Di dare una mano Grazie infinite Per quello che stai facendo Per me Oh È davvero il minimo Che io possa fare In qualche modo Dovevamo farci perdonare Per questa irruzione Nell'ultimo minuto Oh no Affatto Cioè in realtà Mi ha fatto molto piacere Era tanto tempo Che non passavo Del tempo in compagnia E i tuoi amici? Beh io sono cresciuto a Tokyo Qui non ho molti amici Ah sì Pensavo che tuo padre Fosse dalla polizia di Kyoto Si è trasferito Qui da Tokyo Dopo l'incidente di mamma Cioè Kyoto e Tokyo Sembra un gioco di parole Ha detto che era meglio Così perché è qui Che vivono i miei nonni Se proprio un bravo papà Probabilmente non voleva Che restassi sola Tutto il tempo Non è quello Vuole soltanto Scaricami a qualcun altro E andarsi a ubriacare Tutte le sere Non solo Mamma è stata uccisa E lui non Io vi chiedo scusa Non devi scusarti Mi hai passato tanto A Kanachan Sono così depressa Da quando è morta mia madre Non riuscivo più A divertirmi come prima E prima che me ne rendessi conto Tutti i miei amici Mi avevano già scaricato Abbiamo scaricato Capisco Però ultimamente Va molto meglio Grazie ai miei iscritti E' solo che Quando non trasmetto Mi sento ancora molto sola Sai una cosa Io persi mia madre Da quando ero ancora piccola Mio padre Dovette crescere In me e mia sorella Senza l'aiuto di nessuno Non solo Anche lui era un agente di polizia Tornava sempre a casa Molto tardi E a volte non tornava proprio Accadeva così spesso Che a un certo punto Finì per pensare Che non mi portassi affatto di noi Poi un giorno Mentre svolgeva un'indagine L'indagine venne infestito E ci lasciò Non ne avevo idea Ero tormentata Dari impianti Desideravo aver condiviso Molte più cose Con mio padre Aveva lavorato Così duramente Per la nostra famiglia E per il bene di tutti E io non l'avevo mai ringraziato Continuo a pensare Ci sono così tante cose Che vorrei potergli dire So di non essere nella posizione Di per parlare di tuo padre O del tuo rapporto con lui Ma vorrei comunque Che tu trovassi un modo Per non colpabilizzare Tuo padre Per il suo lavoro Lui però Niente Ti chiedo scusa Se non è un problema Ti andrai a dirmi Cosa è successo Tra voi due Io l'ho visto L'uomo che ha invistito Mia madre Ah Cosa? Ma non l'hanno mai arrestato Ancora ho trovato Una lettera da Dio Scritta dal suo segretario Prima di suicidarsi Pare dicesse Sono stato io Investire con la donna Ma con un testimone oculare La polizia Non avrebbe mai dovuto Fare un errore del genere E' quel che diceva all'inizio Ma poi ha finito Per arrendersi Nell'uino e la polizia Mi hanno mai ascoltato E io l'ho detto Così tante volte Perché sono stato Sono soltanto una ragazzina L'uomo che ha ucciso Mia madre E' ancora in libertà A Cane Chan A lui non importa più nulla Della mamma Non gli importa Di me Lo so Sta solo cercando Un'altra donna Per poter andare avanti Con la sua vita E di sicuro Penso che io Sono soltanto un ostacolo Qualsiasi altro padre Sarebbe meglio di lui Adesso basta Sì infatti E' del tutto impossibile Che a tuo padre Non mi importi nulla di te So che hai sofferto Molta Cane Chan Ma sono convinto Che ci sia una qualche Spiegazione Dietro tutto questo Anche se può darti Pensiere E' per questo che anche Tuo padre lavora così tanto A Cane Chan Ne sei sicura? In tua compagnia E' molto più felice L'espressione del suo volto Non mente E' completamente diversa Quando è lontano da casa E' da te Questo dovrebbe servire A dimostrarti Quanto sei importante per lui Sei la cosa più preziosa Che ha al mondo Allontanano Non ti farà stare meglio Servirà soltanto A farti ancora più male Piuttosto dovresti Digli cosa provi Davvero Digli tutto così Da non avere Rimpianti in futuro Qualunque cosa Tu debba digli Sono certo che Vorrà ascoltarti Scusami Io volevo solo aiutarti No Non è Sob Ma mia mamma Lei Perdonami Non volevo farti star male Se vuoi parlarmi Sentiti libera di farlo Quando avrai bisogno di me Io ci sarò Grazie Sniff Eeeh Perché A Cane piange Sta soffrendo No guarda Si diverte Un giorno lo capirai Davvero A Cane Chan Grazie al cielo Ma era qui Poi la ragazza A Cane e il nonnetto Sono belli incasinati Dovevo mandare a letto Ci aspetto un lungo viaggio domani Già Questo momento Mi è scaldato il cuore Dormirò come un angioletto A questi ragazzi Siamo a metà agosto Quasi A ferragosto Si festeggia anche lì A ferragosto A Chiotomai Dove Salvare i tuoi progressi attuali Direi di sì Però Penso di continuare ancora un po' Perché Vediamo se riesco a fare un altro quarto duro Bene Cane Io devo andare Appena il caso sarà chiuso Mi perderò delle ferie Che ne dici se andiamo da qualche parte? Magari un parco di divertimenti Non sono più una bambina Oh Ti chiedo scusa Merda Non ci siamo Oh cielo Sistemare le cose tra questi due Non sarà facile Smettila per fuori Non ti intomettere Tieni ancora il bronce Su Non pensi che sia ora Di lasciarsi alle spalle Questo comportamento da Sundere Sarà tipo tsunami Futaba Chan Ti ci metti anche tu Dai non fare così Riusciremo mai a ricongiungere Vemente padre e figlia Date loro del tempo Mi auguro davvero Che troveranno un modo Per rinsaldare il loro legame Ce la faranno Ne sono certa Vero Cane Chan? Sì Immagino di sì È ora di andare Se aspettiamo ancora Il traghetto Partirà senza di noi Dobbiamo salutarci A quanto pare Stai bene Cane Chan? Una meraviglia Grazie di tutto Un souvenir di Kyoto Avete fatto tanto per me Quindi La prenderemo nel camper Mini ombrellino Vabbè Promettimi di tornare presto Ma certo La prossima volta Porteremo un sacco Di cose buone da mangiare Cioè no Veramente ragazzi Si può mangiare Si può parlare sempre di mangiare E staremo svegli Tutta la notte A spetticolare Faremo anche un altro bagno insieme Se vuoi Si lavano E mangiano Chiamami Ogni volta che ne avrai bisogno Non vedo l'ora di risentirti Presto Ricevuto Fate buon viaggio Dai Dai un bacio A tappo va Dai Su Si ecco Fa attenzione Tutto qui Eh non so Stringitevi la mano Ok ok Ma certo Stai attento Beh pare che lui Stia bene così Ah beh E' sempre meglio Un caccio del culo Scusate Eh però A un certo punto 17 Okinawa La quale estate Quasi finita ragazzi Traghetto per Okinawa Ponte principale Wow Che meraviglia E' come una distesa Infinita di zafferi O zafferi Luccicanti Oh mi viene da piangere Una vera gioia Per gli occhi Sarebbe ancora più bello Se fossimo qui Semplicemente in vacanza Che ne pensi Sofia Bello eh Dunque Questo è il mare di Okinawa Che bellezza Com'è sotto la superficie Com'è sotto la superficie Dell'acqua Pieno di pesci E' la mozza del fiato Dai Ok Spero di vedere Di poterlo vedere Con i miei occhi un giorno Viaggiai su una nave Con i controcazzi Come questa E' proprio una figata Concordo Il mio spirito d'avventura E' come Rinato Sento un impietuoso Fremito di passione Ok Allora non posso Spaccare questa occasione Informazione gente Una foto Rio Gigi A Carboni Che sta a dire Ok Ok Ah ti fidi di me Cosa vedi ai miei occhi Ammirate tutto lo splendore Di un classico Dei poster cinematografica Non mi pare che fosse così Non è piuttosto Una strana cosa Da cheerleader La definirei piuttosto La definirei piuttosto L'interpretazione Del I musicanti Di brema Era proprio così Era proprio necessario Tu scendi lì E' pericoloso Siamo aperti Siete un po' più Uno più scimo Dell'altro Sì in effetti Ok Giusto per aumentare I punti legami Sta roba serve Qualche ora dopo Kukujima E poi non l'ho letto l'altro Ah finalmente siamo arrivati Quel viaggio in nave Non finiva più Sento ancora le onde sotto i piedi E' stata un'esperienza Perché era più che rara Essere circondati Dalla braccia del mare E dai suoi sfavillanti riflessi Allora Questo è Kukujima C'è più gente Di quanto mi aspettasse Già Io mi immaginavo Immaginavo Forse qualcosa di insimile A un'isola incontaminata Fino a qualche anno fa In realtà Questo era un posto Piuttosto tranquillo Poi qualcuno Ebbe la bella idea Di un'organizzazione Una specie di migrazioni Di organizzare Una specie di migrazioni In massa C'era persino uno slogan La tua nuova vita E troppi ci ti aspetta Tutto ad un tratto Si passò Dalla popolazione Di appena 200 persone E quasi migliaia La zona del porto E' molto vivace C'è quasi un'area Da dare sorte Le vacanze estive Sono tornate Avanti Non siamo qui Per cazzeggiare Per prima cosa Dobbiamo trovare La struttura di ricerca Ha ragione Dovremmo cominciare da lì Vorrei iniziare a indagare Il primo possibile Riecco i due poliziotti in azione Il caso è la priorità Dai Facciamo i seri Su Potremmo goderci Il nostro tempo libero Una volta che il caso Sarà risolto Ora il nostro obiettivo È il laboratorio Trovato da Echinose Ok andiamo Da che parte? Leci tu i dettagli Sofia La prima svolta Girare a sinistra Che succede? Non ho trovato alcune informazioni Riguardo alla struttura Come cacchio è possibile? Beh Stando a Echinose Non sembra essere un'attività La luce del sole Giusto? Forse dobbiamo trovarla Per i fatti nostri Mi spiace Non so come aiutarvi Se le cose stanno così Dovremmo chiedere in giro E vedere se gli abitanti Del posto Ne sanno qualcosa E da dove cominciamo? O magari I negozianti della zona Ne sanno qualcosa? Ho individuato Un negozio di souvenir Voglio procedere Voglio prendere qualcosa Per suo giro Aspetta Futaba Mi unisco a te Nella ricerca di prodotti Dell'artigianato locale Beh Questa è quanto ti ha Fatti solo Pare che dovremmo chiedere Indicazioni Se vogliamo trovare Il laboratorio Ok Pronto commissario? Sono Asigawa Qual è la situazione? In genere Non sparisci Per tragini di filo Le mie scuse Ero in mezzo all'oceano Non c'era il segnale Oceano? Le indagini Si hanno condotto Al Kinawa Pare esserci Una struttura Di ricerca Legata all'app Emma Era la migliore Prista a disposizione Portato con mail Ad il fantasma C'è qualche possibilità Di trovare parole concrete Da quelle parti? E' troppo presto Per dirlo Inizierà interrogando Il personale Della struttura Se dovesse scoprire Che stanno cercando Di coprire le loro tracce Però dovrò Intensificare le indagini In del caso Avrò bisogno Di mandiati Di rinforzi Bene Tieni mia giornata Nel canto nostro Stiamo ancora indagando Su Maddice Se dovesse saltare fuori Qualcosa Ti farò sapere Grazie signore Riguarda Sakawa L'altro fantasma Non servono Sottanto A divorare Responsabile Degli incidenti Se dovessimo Essere costrette Ad annunciare Ufficialmente Un colpe Loro Saranno Lì con te A portata di mano Quando avrai Il momento Dovrai consegnare La giustizia Vedi Non afferci Non ti troppo Intesi? Ricevuto Non è che mi piaccia Molto questa cosa Non affezionati Troppo Fischia Sono stati a casa sua Hanno mangiato Hanno Dormito Puglia guidato Per 21 ore Sono andati A Okinawa Lasciamo a tracciare Questo laboratorio Di ricerca Ok Iniziamo l'indagine Allora Io farei così Secondo me Se iniziamo l'indagine Non so dove mi porta Facciamo così Intanto Salviamo Che potrebbe essere lunga Se vedo che è troppo lunga Perché non volevo fare ancora tanto Ma adesso Presidiamo dopo Allora Anna Non riesco a fare meno Di fissare l'oceano Potessi rassare Potessi rassare Potessi rassare In un posto del giro Sarebbe davvero fantastico Ho sentito dire Che c'è una dorme spiaggia pubblica A più vicino Spero che riusciremo A trovare il tempo Di andarci Va bene Oh mio dio Allarme Shisa Non ne avevo mai visto uno Dal vivo Wow Guarda quanti dettagli Da vicino Ognuno ha un'espressione diversa Questi sono Guardiani divini Che si dice Proteggono dai disastri A quanto pare Quello a destra È un maschio Mentre l'altro È femmina Quindi sono una coppia Buona sorveglianza Signor Signor Shisa Ok Yusuke Cene infiniti L'oceano Il dolce Frangios Del leone Il profumo Della frutta fresca E il cibo E il cibo È sempre il cibo Si diffonde Trasportato L'avvento Questa non è una semplice Attrazione turistica È un autentico Paradiso naturale E guarda E guarda questo Scisa La grandistà Del soprafine Il dinamismo Delle sue linee O è cielo Ce lo siamo perso Va bene Ma sì Ma io sono qua Per indagare Negli altri Sono Riccardo Mali Più o meno C'erano tre indizi Il laboratorio Dice che Il posto giù Sì Non saprei Ho abbandonato Il mio lavoro E sono venuto qui A vivere Non molto tempo fa Perciò ho ancora Molto tempo Riguardo a quest'isola Ti vado a ascoltare Un bel motivetto No grazie C'è bisogno Di leggere niente Abbiamo già un veicolo Ok scusa Ah eh Pensavo che Avessi parlato Come una porta Non come una persona Qua chi c'è Una Ryuji Non riesco a trovare Nemmeno un negozio Di soba Okinawa Figurati Questo veramente Guarda Vuoi prenderla Sul serio Oh sì certo Stavo proprio Per chiedere Al personale Qualche negozio Di soba Adesso una bella Scodella di sobra Ti stuzzica E dici di mangiarci Una appena Finiamo questa faccenda Dell'indagine Sì sì va bene Ok ragazzi Se trovate Un gioco Che parla di cibo Come parla Questo gioco Ditemi Ehi Potrei avere Dei informazioni Per te Vediamoci 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 dietro Negozio Cosa vuoi fare Vediamoci Se abbiamo Intenzione A indagare Posso chiamare Tutti gli altri Al rapporto Ehm Ehm Andiamo Sì va bene Contatto Tutti Indagine Completata Va bene È stato veloce Ma struttura di ricerca È da questa parte Sì credo di sì Un cordone sacro Quella roba Non si vede Solo nei santuari Che ci fa qui Ci sono Ci sono Devono aver Intrappolato Un yokai Legendaio Però questo È un laboratorio Non dovrebbero esserci Piuttosto Degli zombie E robe del genere Ottima osservazione Non diciamo assurdità Schiazzavi Vero? Basta Sciocchiazza Questo laboratorio È nel mondo reale Andiamo Sofia Giusto per essere sicuri Non c'è nessuna prigione Qui vero? No Niente prigione Su quest'isola Ammeno credo Credi? Non le fiutavi tu? Già Dicevi di poter trovare Le prigioni Grazie all'odore Al momento non gli dava alcuna odore Diversamente da Sendai O Sapporo Qui non avverto la presenza Di alcuna prigione Tuttavia C'è qualcosa di anomale In questo posto O Come si dice Una brutta sensazione Una brutta sensazione Magari una presenza spettrale Carica di rancore Sto venendo a prenderti Sto venendo a prenderti Smetti Non è divertente Futaba Di qualunque cosa si tratti Dobbiamo andare a vedere L'attività rimarrà chiusa Fino al 18 agosto A causa di impegni Improrogabili Beh Questo non me l'aspettavo Intrufoliamoci Scusa Adesso Bene tutto Oh Questa si che è un'idea Ladri fantasma nel mondo reale Niente azioni illegali Violare una proprietà privata È un reato Inoltre i tribunali Non accetteranno Prove ottenute Tramite atti illeciti Non direbbe Dal tutto inutile Il nostro viaggio Sì lo sappiamo Ma Il cartello Indica il 18 Quindi aspetteremo Fino a domani Più semplice E meno illegale Ma alpena Sarà tornato il personale Farò prendere aria Al distintivo inizio Da fare domande Questo posto Ha una rettelmente losca Che basterà Ficcare un po' il naso Per iniziare a scoprire qualcosa E quando avrò in mano Qualche elemento Potrò annunciare L'inizio di un'indagine Ufficiale A quel punto Confischiamo Tutto il necessario Capisco Un approccio Piuttosto strategico Wow Ecco a voi Tutto il talento Di Zenkichi Detective privato Privato come no Sono nella pubblica sicurezza Se ci tocca aspettare Fino a domani Vuol dire che abbiamo Un po' di tempo libero Figurati Andiamo a mangiare Ah Pensiamo ad andare a mangiare Buona idea fantastica Solo perché Magari c'è Qualche video Qualche filmato carino Non è il caso Di sprecare altro tempo Quando ci ricapita una casena del genere Sul via Stiamo lavorando un caso Sai In realtà Non è una partirea Ficcanasando troppo Potremmo dare nell'occhio Dobbiamo evitarlo a tutti i costi Con tutti questi turisti in giro Ci conviene Tenere un basso profilo Quindi E andiamo al mare In the beach Sulla spiaggia bianca Incontaminata Con Lady Anne E a coronare tutto Un Basta E a coronare Il coronamento Aragosto Abbiamo vincitore Facciamo in chat Di provviste Prima di andare all'avventura Ok Cerco negozi più vicino O meglio Negozi più vicino L'unico supermonicato Dall'isola E al porto Va bene Siamo tornati al porto E abbiamo fatto la spesa Tutti al mare? Che indite Di questo posto ragazzi Sembra proprio l'ideale Per una festa di spiaggia L'acqua E' uno splendore ipnotico Sembra quasi irreale Ok Stiamoci qui Beach time Dove devo segnare Beach time E voglio dire tutti al mare Un momento Non avete messo la crema solare? Oh my god Ma non potete fare così? Ah Questi fanno un po' quello che vogliono Sono venuti a casa tua Senza essere invitati Diamine che razza di casinisti Ma che arriva primo Dai Non essere sciocco Vado nel campo Per controllare delle cose Voi divertitevi pure Con quell'esposizione accigliata Sarai tu a destare Sospetti Zenkichi Se vuoi sembrare un triste Fingi almeno di divertirti Perché non preveri Lassarti per una volta? Stare sempre all'alerta Non ti fa bene Non puoi perdere Quest'occasione Zenkichi Non vorrei rifiutare l'invito A una bella signorina Zenkichi Eh va bene Farò una pausa Ma che non duri troppo Intesi? Non mi sembri così Poi così dispiaciuto Veniscilo Adapossiano Proprio Stai zitto Vabbè Portami con te Veia Sarà la mia prima volta Allo nell'oceano Al giorno d'oggi I smartphone Sono del tutto impermeabili Ho controllato Poi inveggio Questo telefono Senza problemi Ti va? Certamente Ok Oggi ci si scatena Possiamo finalmente Goderci un assaggio dell'estate Non si vedrà niente Oh Eh beh Okinawa è la bestia Hey Guys You've got to see these fish Wow e allora se bello che c'è un video che è in ovegli oh il sole sta per tramontare quindi facciamo che facciamo adesso? il tuo telefono sta vibrando ehi, hai un secondo? sta pronto a muoverti una volta che ci saranno si saranno calmate le acque sono certo che è andato tutto bene è solo che ho una strana ho questa strana sensazione nello stomaco ha finito di prepararsi per cosa? insomma, non mi sembra il caso di essere sempre sull'attenti mentre siamo qui penso che andrò a farmi una passeggiata ora che le strade intorno sono finalmente meno affollate anche tu dovresti rilassalarti un pochino perché non esci un po' con gli altri? spero tu stia riposando bene tu ti stia riposando bene se hai tempo potresti venire da me beh, ho un favore da chiederti è più semplice spiegare di persona va bene allora, dopo questa parte molto discorsiva però alla fine è carina cioè, ho parlato sempre di cibo però almeno ci hanno regalato un filmatino mi è piaciuto questo pezzo rispetto all'altro mi è sembrato meno monotono anche perché si è parlato del rapporto tra padre e figlio che sinceramente mi tocca anche in prima persona però questo, diciamo, sarà magari un altro argomento in futuro intanto io vi saluto e ci vediamo al prossimo video e ricordatevi di iscrivervi al canale per non perdere la priorità acquisita ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti